Il fatto è che tutti gli uomini che gettano uno sguardo sulle loro rovine passate credono, per evitare le rovine future, che sia il loro potere ricominciare qualcosa di radicalmente nuovo. Fanno a se stessi una promessa solenne e attendono un miracolo che li tiri fuori dal baratro mediocre in cui il destino li ha sprofondati. Ma non accade nulla. Tutti continuano a essere gli stessi, modificati soltanto dall'accentuarsi di quella tendenza a decadere che è il loro marchio. Così il presidente regionale d'Italia Nostra, Leandro Ianni, citando una frase del filosofo e saggista romeno Emil Cioran, commenta l'avvenuta demolizione e le rovine dell'edificio di Largo Barile nel quartiere Santa Venera. Noi in Italia Nostra siamo stati sempre contrari a questo abbattimento, a questa demolizione, insomma un gesto barbarico realizzato dal comune e dalla sua intendenza, diciamo. In base a un progetto che si rifà al 2008, cioè il progetto della Grande Piazza. E comunque questo progetto che si andrà a realizzare non ha niente a che fare più con quel progetto. Quindi siamo contrari nel merito e esprimiamo anche delle forti perplessità in merito alla legittimità di questo intervento per quanto riguarda l'autorizzazione urbanistica, perché c'è una modifica urbanistica di fatto con questa demolizione. E in più i lavori, insomma, la gara d'appalto e i lavori sono stati gestiti, secondo noi, non nel rispetto delle norme ambientali, ecologico-ambientali. Cosa andava fatto per rispettare queste norme? Ma i materiali, si chiama separazione dei materiali, è una tecnologia che, insomma, è una tecnica che viene applicata dalle imprese, insomma, in questi casi, ma i costi aumentano. Quindi in questo caso si è scelta l'abbassamento del costo dei lavori, sembra una spesa notevole, 80 mila euro, più le spese di esproprio, più gli indennizi ai proprietari, in ogni caso è costato, pur di risparmiare qualcosa è comunque sempre a scapito della salute dei cittadini, perché le polveri che si sono alzate durante i lavori sono state notevoli, insomma, le polveri, e poi lo stoccaggio dei materiali non si sa come avverrà. La cosa strana è che si dovrebbero abbattere quei palazzi pericolanti, assolutamente privi di qualità, nelle periferie della città, e invece si abbattono, si demoliscono edifici storici nel centro storico della città, trasgredendo quello che era poi il programma di questa amministrazione. Quindi noi siamo assolutamente stupiti di queste scelte, per noi inspiegabili, anche perché l'edificio che è stato abbattuto aveva una buonissima consistenza materica, strutturale, e quindi non andava abbattuto. Laddove gli edifici sono pericolanti, è chiaro che bisogna intervenire con le demolizioni e eventualmente la ricostruzione, ma in questo caso l'intervento è assolutamente gratuito, è privo di senso.